1, 2, 3 Nel febbraio del 2020 Tutto andava con normalità Si correva a destra e a sinistra In un modo o in un altro si tirava a campà Chi ha lavoro, chi ha sciare in vacanza Chi dall'amante, chi in grandi città Tutto un tratto poi all'orizzonte Si intravede Conte e ci chiude a casa Smartwalking di prima mattina Accidente a chi lo sa pronuncià Quella dice, se il virus è cinese Io fò smartwalking e vò camminà Tutta bella poi apre il computer Pavoneggia un po' con la webcam Poi gli passano dietro i figlioli Il marito ognudo e anche la sua madre Penso ora a quei poeri mariti In quarantena non si tengono più Gli hanno spento tutte le partite E con la dei filipini viene più su Da allora un partetti di pasta Rimagniamo e vedrai, o che vuoi fare? Dopo un dolce la noia mi passa Ma la trippa ingrassa e arriva a scoppiare Scarta ora un bell'uovo di Pasqua Come che culo è andata così Per sorpresa c'è una mascherina Fino a domattina la voglio portar Poi si spera che da fine aprile Ci serva soltanto per andare a vermi già